A questo video vi fai attrice Le prove sono tutti i giorni Sì, tutti i giorni premino 8 ore Tutti i giorni premino 8 ore per meno un mese Ah, mi ascolto anche a te Beh, insomma Un inculato Però se non dico Cosa prevede il mio futuro se non lo dico? E se tu, ma comunque stai Ma comunque qualcosa, qualcosa che tra Teatro is like Looking for a black cat in your black room Il teatro è cercare un gatto nero in una stanza nera Mentre io proprio, io non sentivo niente Niente, era un po' de goccio L'insegnante che mi guarda e mi chiede con le mani Giuro che io non lo so E il resto della classe che mi dice Dai, che ce la farò Aspetta Aspetta Non sento un razzo Ma come un razzo Porta giusta Ma chi me lo fa Perché Ah, Achille Ah, tu mi hai generato Perché Oh, sorteria Sei una giovane attrice carina e disoccupata C'è di dire le bocce Ma non lo capito La gente non ti vede Ti guarda Ma non ti vede Cerca di ragazzo a bella presenza Per attività di sportello e relazioni col pubblico Aspetta Aspetta Ma come si è fatto dal computer? Ma che so 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 Non si accorge nemmeno che esisti E non ha Non ha bisogno di sapere che esiste Ha bisogno di capire Che qualcuno si accorge Che tu esisti E che balle Oh E basta Oh Tu sei bona E basta Che è l'allegria per passare ai propri, so sempre un po' alle parti, scavo la voglia di cercare tutti la sensazione. Non essere egoista, libera la tua vulva, chiamaci al numero verde 800 69 69 69. Non fai niente e guadagni 300 euro a sera, è troppo semplice, no? La maschera dietro aveva come una specie di protuberanza, ecco, rigida, full bella e grossa, e questa protuberanza andava infilata in mucca e tenuta stretta tra i denti. A questo vi mi fai addice, ogni volta mi dovete tirare suoi, agli attiagrescentini, agli capotondi, agli ottobini, agli trinca, agli ooooh, bag. Bene, grazie signorini, le faremo sapere. Tranquilla, le chiamiamo con noi. Grazie. 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 Grazie.